in questo video allora oggi vi faccio vedere come si può creare una rete wifi manuale in modo manuale molte volte può capitare che vi serve che il vostro dispositivo non si riesce ad allacciare alla vostra rete per vari motivi svariati allora per poter risolvere questo problema potete creare manualmente la vostra rete come si fa andare su impostazioni connessioni wifi aggiungirete mettere il nome della rete che volete collegarvi sicurezza mettete vp a due personal mettete inserite la vostra la parla password che volete andiamo ad avanzare questo qui non è obbligatorio ma è consigliato io consiglio di mettere statico e in base agli indirizzi collegati al vostro modem insedi date un ip statico il gateway è il l'ip del modem ok perciò il cat web definito è l'ip del modo ne ripeto lasciate qua e mettere i dns di google che vanno stra bene 8 8 8 8 8 4 4 fatto questo scusate ritorniamo qui un attimo il proxy non lo mette non mettete nulla lasciate lasciato così com'è ok e salvate una volta fatto questo in automatico si connette per forza ok molto semplice immediato spero di essersi stato utile iscritto il mio canale commento il video ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao